Due settimane fa, è stata diffusa la notizia della crisi tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Il portavoce della campionessa di nuoto, ha dichiarato, in questo momento Federica sta cercando di mantenere una concentrazione forte e decisa nello sport. Se avesse pensato alla famiglia o al matrimonio avrebbe fatto altre scelte. La sua scelta oggi è solo e unicamente il nuoto. Filippo Magnini, al contrario, aveva preferito tacere sulla sua situazione sentimentale, limitandosi a commentare, chiedete a lei cosa è successo, a me non va di parlarne. I due avrebbero trascorso Natale separati. In queste ore, intanto, il settimanale chi, li ha immortalati insieme. Nella foto, vengono ritratti mentre cenano in un ristorante di Roma, in compagnia di amici. Federica Pellegrini e Filippo Magnini hanno scelto di risolvere i propri problemi in privato, evitando nelle varie interviste rilasciate, di menzionare i motivi che li hanno portati a decidere di prendere una pausa di riflessione. A Valerio Staffelli, che le consegnava il tapiro, la nuotatrice ha ribadito. Certe cose è meglio risolverle tra noi. Speravo di tornare dal Canada e parlare di nuoto, invece parlo di altro. Se ci siamo lasciati, chi lo sa, magari sì o magari no. Se la coppia è scoppiata nel privato, in pubblico i due appaiono ancora insieme, simbolo che l'affetto tra loro non è di certo venuto meno. I fan di Federica Pellegrini e Filippo Magnini, inoltre, possono ancora sperare in un ritorno di fiamma. La madre di lei, Cinzia, ha chiarito che tra loro non si parla di una rottura definitiva. Federica e Filippo non si sono lasciati. La loro è solo una pausa di riflessione. Chi se ne frega.